alla grandissima Valentino ha detto che si riuscita a posizionare il piano della seconda parte della partita attenzione Lannunia può push it up with a red helmet quindi stiamo aspettando per il fine del lap Valentino Rossi ha posizionato la posizionamento 3 Grazie 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 la nostra Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.